Musica Ben trovati telespettatori di TV Sera appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 18 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo fenomeni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre a nord Italia il tempo risulterà più stabile. Nel dettaglio, sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno instabili, in particolar modo sul versante orientale della nostra regione dove sono attese piogge e rovesci. La ventilazione risulterà debole dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno prevalentemente calmi o poco mossi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un generale miglioramento con i cieli che risulteranno prevalentemente coperti, tuttavia non si escludono le ultime deboli piogge, soprattutto sull'Alto Chietino. La quota neve inoltre si attesterà attorno ai 1000-1200 metri di quota su tutto l'Appennino. Nel corso della serata le condizioni miglioreranno su gran parte del territorio regionale con i cieli che risulteranno nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte della regione. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.